soffre rincorre lotta e spinge ma poi cede è una prima di campionato con molti onori ma poca gloria quella della Promobol Sanitars Gussago che in casa della più quotata volley Belladelli cede per 3-7-1 con una contesa in cui non rinuncia affatto a farsi valere la serata si fa subito in salita con le padrone di casa che sin dalla linea dei 9 metri mettono pressione alla Promobol il servizio veronese è il grimaldello giusto per far saltare la ricezione e il polteggio lo certifica con un 5-1 che obbliga le Tigri a rincorrere gli scambi che seguono paiono una promessa per un totale dominio della Belladelli dato che questa tocca prima il 9-3 e coach Nibbio che già aveva chiamato il tempo a questo punto mette anche mano ai cambi inserendo salvetti per Migliojkovic quindi 13-8 la Promobol non molla ma la lungo vincente lo trovano le avversarie che chiudono 25-20 eccoci al secondo set quando poi i giochi riprendono la situazione si ribalta rispetto all'inizio del match è infatti la Promobol a cominciare meglio spingendo 1-4 nonostante le padrone di casa accorcino e impattino torna avanti con un muro di piantoni e con un ottimo turno al servizio di salvetti aumenta la forbice costringendo dunque le veronesi a far la parte delle inseguitrici l'andamento tale resta fino a quando Villa Franca trova l'aggancio a quota 17 seguito dal sorpasso che di fatto pietrifica la Sanitars Gussago costretta a guardare le avversarie volare sul 23-17 e poi a perfezionare il 2-0 per il 25-18 terzo set desiderosa di accorciare le distanze è ancora la compagine bianco-rossa a partire forte nel terzo parziale ma il 6-0 con cui apre le danze non basta piegare le veronesi che anzi si ricompattano e se li fanno sotto per poi mettere la freccia la Promobol stringe i denti, lotta e cerca di recuperare sfoderando gli artigli si aggrappano alle spalle delle avversarie con un muro dolomitico di basalari stampano il 23-23 quindi ai vantaggi perfezionano il 2-1 chiudendo a 26-24 e siamo all'atto finale, la tensione sale, l'equilibrio segna l'inizio del quarto set una ricezione perfetta di Bertoletti consente un vincente primo tempo a basalari e fa prendere fiducia alla squadra che cerca di non mollare anzi da vita ad un punto-punto fino al 14-13 a questa altezza però la situazione si sblocca ed è ancora la battuta della Belladelli a favorire il tutto malgrado i tentativi tuttavia la Sanitars Gussago non riesce più a ricucire così il 25-19 consegna i tre punti a Villa Franca